È passato quasi un anno ormai dall'alluvione che ha messo in ginocchio il comune di Cantiano, Fano però non dimentica e continua a dare il proprio contributo, in questo caso con un evento benefico. Da chi è nata l'idea? Beh, allora, a maggio ero a fare un aperitivo con Sara Angherà, che è la manager del Fano Gospel Choir, e con una nostra comune amica di Cantiano. Vive Roma, ma è di Cantiano. E ci ha raccontato di quello che era successo alla sua casa, ma delle varie tragedie sfiorate anche e non durante l'alluvione. E ci ha pronunciato una frase che mi è rimasta molto impressa, e dice, se non hai la casa invasa dal fango, non ti rendi conto della tragedia. E a quel punto io e Sara ci siamo guardate e abbiamo detto, vabbè, è vero, è passato un anno, No, logicamente le luci della ribalta si spengono, inevitabilmente, perché il mondo, logicamente, va avanti. Però sono nostri vicini di casa e quindi ci faceva piacere continuare a ricordarli e potergli dare una piccola mano, un piccolo aiuto. Quindi abbiamo deciso di organizzare questo evento che è Invito a Corte. Si svolgerà la Corte Malatestiana il 22 di questo mese. Dalle ore 20 partiamo con un aperitivo offerto da due aziende del territorio per passare poi alla parte più artistica, appunto il coro, e Ex Novo, la nuova compagnia teatrale. I ragazzi di Ex Novo hanno scelto di leggere alcune poesie di Whitman, perché è un poeta americano e perché l'idea di solidarietà in America è molto forte, era molto forte perlomeno nell'Ottocento, al periodo del poeta. L'America è la terra dove tutti hanno una possibilità e quindi questa idea di solidarietà americana ha spinto alla scelta di questo poeta e ovviamente i canti gospel sono canti americani. Al progetto collabora anche l'ente carnevalisca? Certamente sì, potete vedere, sì, ovviamente nella parte più burocratica, diciamo, e anche perché all'ingresso della Corte Malatestiana ci sarà il Voulon ad accogliervi con una piccola mostra proprio sul Voulon. Sarà invece il coro che cosa ci farà sentire? Il coro parteciperà a questa serata in beneficenza per Cantiano con un repertorio spiritual, ma diciamo che facciamo più un viaggio, vogliamo partire dallo spiritual per arrivare verso il gospel più moderno, anche per arrivare a un pubblico più eterogeneo, insomma, per poter arrivare un po' a tutti. Chi saranno nel vostro caso i protagonisti dell'iniziativa? Il coro si è reso appunto protagonista con la direzione di Caterina Di Placido, nomino anche la presidente del nostro coro, che nasce nel lontano 97, quindi insomma lo sta portando avanti ormai da tanti anni, e sul palco con noi ci accompagnano i nostri fedeli musicisti, Emilio Marinelli alle tastiere, Mattia Leoni alla batteria e Giovanni Golaschi al basso. Invece all'aperitivo abbiamo lo stesso un altro grande musicista, conosciuto come il cantante degli sciampisti, che a Fano insomma sono noti e conosciuti, e ci accompagnerà l'aperitivo Stefano Cuccaroni, Voce Piano. Sarà necessaria la prenotazione? Obbligatoria la prenotazione sì, perché i posti insomma sono ridotti, insomma non sono tanti, presso l'ente carnevalesca o nei numeri che sono nelle nostre locandine manifesti, insomma o nella pubblicità sui social.